1.500 piante di canapa indiana e 100 chili di marijuana, questo l'esito dell'operazione Emuli di Catone, portata a termine dagli uomini della Guardia di Finanza nella provincia di Vibo Valencia. Un giro d'affari di circa 4 milioni di euro tra piante coltivate e sostanza già essiccata e pronta per essere immessa nel mercato. Il ritrovamento, infatti partito da appostamenti notturni mirati, ha portato all'individuazione di un casolare di campagna dove erano custodite le piante di canapa indiana già in fase di essiccazione, materiale che avrebbe fruttato circa un milione di euro alla vendita al dettaglio. Partendo dal casolare, le fiamme gialle si sono spinte poi nei paraggi alla ricerca della piantagione nei territori del comune di Polia. Un terreno coltivato a marijuana è stato presto individuato a poche centinaia di metri dal casolare nei pressi di un torrente dove disposte su diversi terrazzamenti crescevano rigogliose circa 1.500 piante con un sistema di annaffiamento e di vasche per la raccolta delle acque. Il tutto per un valore di circa 3 milioni di euro. Piante estirpate e distrutte subito dopo come disposto dall'autorità giudiziaria competente della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Namezia Terme. Restano da individuare questi moderni emuli di Catone, il filosofo che elogiava l'agricoltura disprezzando il commercio ma che di certo non teorizzava coltivazioni illegali.